Allora intanto buonasera a tutti, è vero quello che dice il professore Di Franco, la ricostruzione della storia di questo santuario deve chiaramente molto all'attività di ricerca, a volte dal professore Gietano Brancato e dal dottore Pito Scammacche che hanno portato alla luce veramente un numero incredibile di documenti sulla storia del santuario, poi io ho avuto l'opportunità ma anche per certi vestiti di legio di continuare questi studi e quindi ho aggiunto altri elementi grazie anche per le ricerche fortunate perché chi frepenta gli archivi sa che in archivio ci sono sinfoni, ci sono sinfoni, ci sono sinfoni, però non c'è Google, lo dico sempre, diciamo che bisogna essere anche, per così dire, pazienti e tanto fortunati nel cercare e trovare i documenti. La storia di questo luogo, del luogo dove siamo questa sera noi, la storia del santuario, la storia della Madonna, della Miticia è una storia che parte veramente da molto lontano, anche prima, Franco, della nascita del paese, anche se abbiamo capito che la fondazione, la terra è per così dire un momento decisivo. È una storia che comincia nel Quattrocento, è una storia, come possiamo capire, fatta naturalmente di eventi particolari, fatta di grandi belle vennaggi, fatta di viragoli, fatta di ex voto, ma devo dire anche che è una storia fatta di speciali privilegi che hanno in qualche modo alimentato lo scontro tra laici ed ecclesiastici per la gestione delle offerte che venivano date alla Madonna della Miticia e in questo contesto, diciamo così, è maturata una sorprendente manomissione del quadro della Miticia di cui poi ci parlerà il professore Marzalini. È una storia lunghissima, quindi ho cercato in qualche modo di ricostruirla per tempi, perché insomma sarebbe veramente difficile, ne parlavo proprio giusto appunto a grande inizio con il lettore del santuario, insomma, ricostruirla proprio brutta. Allora, il primo tema che ho individuato è quello della cappella, cioè il nucleo originario del santuario della Madonna della Miticia, forse dico una cosa in qualche modo superflua, il santuario della Madonna della Miticia è uno dei più grandi santuari religiosi della Sicilia, è un grande polo di attrazione religiosa, perché ovviamente stiamo parlando di questo, quindi allora il nucleo originario rega una piccola cappella costruita alla fine del Quattrocento da Anfuso per la Cera. Chi era Anfuso per la Cera? Era un imprenditore della canna da zucchero, un cittadino di Lipari, poi diventato l'abbiatore di Palermo. Quindi un imprenditore della canna da zucchero, che nel 1490 prende in enfiteosi, cioè un contratto di affitto lungo, diciamo così, il territorio della Milicia dal barone di Sperlina e Cimina, che si chiamava Puglielmo Ventimiglia, e lo prende in affitto proprio per impiantare una nuova azienda agricola, per collettivare e lavorare, e lo zucchero, che allora dava 30 di moto e il barone. E quindi cosa fa? Sulle per rovine di vecchi maragmi, di un'antica masseria, costruisce quello che è oggi il bairo, e le strutture necessarie per l'azienda che deve produrre lo zucchero. E quindi il magazzino, il trappeto, le condutture per l'acqua e chiaramente la cappella. Quindi la cappella viene costruita nel 1890 da Anfuso per la Cera. Che funzione aveva la cappella? Molto chiara la funzione, aveva la funzione di garantire l'assistenza spirituale ai lavoratori della canna da zucchero e agli operai che erano impegnati nei lavori di masseria. Nei contratti che io ho avuto modo di vedere, gli intermediari del per la Cera offrivano, dicevano così, il servizio religioso come una sorta di servizio aggiantivo insieme alla taterna, per attirare gli operai a lavorare nel trappetto della milicia e sottrarli così a una concorrenza degli altri trappeti che erano presenti nella zona di San Nicola, piuttosto che per via, per non parlare di grandi trappeti di Figarazzi. La cappella nei documenti è denominata semplicemente l'Ecclesia della Milicia o centramonte della Milica. Veniva utilizzata non solo per l'inculto ma anche per seppellire i morti, ma come accade in passato e tanti altri edifici religiosi. Per esempio lo stesso accuso per la Cera, in uno dei due testamenti, quello del 1496, si chiede di essere per l'appunto seppellito proprio nella cappella della Milica. E quindi questo è il primo passaggio, quindi il primo passaggio è la costruzione della cappella e la cappella viene costruita da questo imprenditore della carne al zucchero che è confuso per la Cera. Il secondo passaggio ci permette di incontrare invece il venerato quadro, quello che adesso chiamiamo quadro della Madonna e la Milici. In qualche modo questo passaggio ci fa incontrare anche un altro personaggio, devo dire, importante, non solo per la storia del santuario, ma anche per la storia di questo territorio, ed è Lorenzo Galletti. Galletti appartenera da una famiglia proveniente da Fisa, accorgerete di questo dato, diciamo così, non è un dato casuale, è entrato in possesso della Milica nel 1563. Ma quando entra in possesso di questo territorio trova tutto in uno stato di abbandono, insomma tutto è in rovina, perché le aziende dello zucchero siciliano avevano subito nel primo anno del Cinquecento il primo tracollo, tutto era stato per così dire abbandonato, quindi il terreno, il baio, il trappetto, naturalmente la cappella. Ora però, siccome alla seconda metà del Cinquecento c'era stata una ripresa, diciamo così, è una maggiore richiesta del zucchero, Lorenzo Galletti vuole rilanciare la coltivazione della canna dal zucchero e quindi è costretto, lo dico nei primi momenti, a fare e terribare tutto di nuovo dentro lo vaio e quindi è costretto a ristrutturare anche la cappella. Siamo nel 1578, giusto per dare così un riferimento. E dai notai del periodo, per esempio Orazio di Allegra, apprendiamo alcune cose interessanti. Allora, la cappella aveva l'ingresso risolto verso la corte, cioè significa una sostanza verso il baio, quindi non c'era, diciamo così, l'entrata lato nord, c'era per vedere, anche perché i muri per entrare nel baio, come possiamo capire, servivano in qualche modo a proteggere contro gli brucii e malintenzionati, ma anche per una difesa dell'eventuale attacchi dei pirati, un'altra parola, diciamo così, che vedrete sarà importante per la storia del santuario. I oggetti sardi erano quelli, diciamo così, fondamentali per poter garantire le cercarezioni liturgiche, ma la notizia più sorprendente è un'altra. e cioè il tipito si trovava proprio in questa cappella ristrutturata da Lorenzo Galletti. Siamo nel 1589 e questa informazione è riportata da un inventario trascritto dal notario Giulio Trabbona di Palermo. Allora, si tratta di un documento, di un'altra notaria, di eccezionale valore per la storia del santuario, perché per essere chiari è il più antico, il primo, il più antico documento finora trovato negli archivi sulla Madonna della Milcia. Io vi faccio una sintesi brevissima. Allora, Lorenzo Galletti aveva ingabbellato il trappetto della Milcia ad un genovese che si chiamava Pietro Mandracchia. Questi a sua volta lo cedeva ai magnifici Nicola, Stefano e Jacopo Pico, quindi in subaffitto per essere chiari. Poi a un certo punto quando si conclude l'affitto c'è il problema di riconsegnare questi oggetti, cioè tutto quello che possedeva il Galletti e consegnava a riconsegnare. E quindi gli esperti che cosa fanno? Elencano, catalogano tutti gli stili, cioè tutti gli oggetti che erano presenti dentro il baglio e che erano di Lorenzo Galletti e chiaramente. E quindi per nostra fortuna catalogano tra le altre cose, che dico esattamente in cosa c'è scritto nel documento, catalogano un quadro sopra l'altare dell'Ecclesia di nostra donna e San Francisco. Quindi il dipinto della Madonna della Milicia era un bene patrimoniale di Lorenzo Galletti posto sull'altare della chiesa denominata di nostra donna e San Francisco un titolo come possiamo capire derivato proprio dal quadro onorimo conservato al suo interno. quindi il primo titolo in assoluto di questo santuario ma anche del quadro è proprio questo Nostra donna e San Francisco. Quindi il quadro si trova alla Milicia tranco molto prima della fondazione del paese che avverrà come tu stessi hai detto nel 1621. Secondo gli esperti uno di questi qui il professore Mazzarino è un quadro che è stato realizzato in una bottega d'arte da un pittore attento alle tematiche della scuola ciottesca probabilmente a cavallo tra il 14esimo e il 15esimo secolo la famiglia Pisana dei Galletti Toscana quindi Pisana ti chiamo per appunto questo rapporto con le damarie della scuola ciottesca la famiglia Pisana dei Galletti lo corrucò nella chiesa della Milicia per decorare quindi con una litiga e prestigiosa immagine di proprietà la cappella dopo i lavori diciamo così effettuati nell'anno 1578 e questo è il secondo passaggio il terzo passaggio è molto veloce però è anche significativo ed è il passaggio dalla cappella alla parrocchia naturalmente legata in questo passaggio è legato alla fondazione naturalmente della terra feudale siamo nel 1621 e Francesco Maria Balogna che è un personaggio emergente di un influente clan paleritano il clan paleritano è quello dei mercadeli di Bologna acquista il feudo della Milicia dai galletti per fondare il paese di Alta Viglia la fondazione ha successo e quindi i coloni aumentavano e nel 1623 il mercadeli che già era per così dire onorato il titolo di barone di Campogra di Campogra che è per l'appunto l'elevazione parrocchia della chiesa esistente cioè della cappella sotto il titolo della beata vergine e del seratico San Francesco è la stessa chiesa è la chiesa è la madonna il padre è sempre quello di nostra donna e San Francesco poi il mercadeli fece riparare e debiliare la cappella cioè con la sostanza la ristrutturò l'amplio utilizzando gli spazi dell'ex magazzino della candada a zucchero la chiesa era di forma del tannolare non perché c'è la china che la vediamo oggi era di variare quindi di buona sostanza e i lavori di ristrutturazione si devono a Mariano Smiglio diciamo così che non è uno qualsiasi ma diciamo è un famoso appietto palerintano a cui Francesco Maria Percadeli aveva affidato la progettazione e la direzione dei lavori del paese insomma oggi deve essere un piano regolatore va bene il generato padre della donna della mili ci abbiamo detto già era qui questo è evidente e questo fa cadere alcune ipotesi che fino a poco tempo fa erano condivise da molti studiosi del santuario e cioè l'ipotesi secondo la quale il Marchese di Altavilla nel costruire una cappella annessa al suo palazio aveva voluto donare un'immagine di famiglia che ricordasse ai futuri abitanti il proprio nome Maria perché lui si chiamava Francesco Maria Maria con la rappresentazione della Madonna e Francesco con quella del santo di Cassisi come possiamo capire la coincidenza invece del tutto casuale quindi non è stato assolutamente il Marchese di Altavilla adorare il quadro e il nome di Francesco Maria concentra niente con l'iconografia diciamo così del dipinto e questo direi che è un altro passaggio fondamentale ancora un altro momento credo determinante della storia del santuario è quella dell'origine del culto perché insomma fino ad ora siamo parlati di una cappella di una parrocchia e poi del dipinto abbiamo parlato insomma del culto e allora quando nasce il culto quando nasce questa grande devozione verso la Madonna dell'indice e per un po' tutte ormai sappiamo che la devozione è in qualche modo adesso vi dico perché legata all'induzione dei mirati quella del 1636 il cinema è un po' la letteratura infantile diciamo ci rappresenta che i pirati come dei simpatici mascarzoni insomma in realtà per tanti anni nel Mediterraneo hanno costituito un vero e proprio flaggello Altavilla essendo un paese della costa fu attaccato diverse volte diciamo così dai gradi barbareschi che utilizzavano come luogo di approvo di navigli il cinema il mitice anche oggi poco più o poco meno si prevede di uno scolatoio ma allora era navigabile addirittura le navi potevano attraccare questa incursione del 1636 fu veramente devastante ce lo raccontano i dialisti di Palermo non a caso e tante altre fonti in realtà lo confermano quindi stiamo attenti alla data perché è fondamentale per capire siamo nella notte tra il 14 e il 15 luglio del 1636 15 luglio anche la festa di Santa Rosa Vila arrivano i grati saccheggiano il fondato bruciano delle case Altavilla saccheggiano i magazzini del vino che si trovano a Fondaghello e anche a Solanto carturano delle persone da portare schiave in barberia carturano una zitta termitana che giusto appunto passava da queste parti operano il di ripendio dice i documenti di ripendio dell'immagine dei Santi cioè si tratta dei cosiddetti corpa d'accetta che sono richiamate dalla tradizione orale cioè sono le quattro fessure prodotte dalle cimità che sono attendo sicuramente che avrà anche liste meglio di noi quindi queste quattro fessure prodotte proprio dalle cimitarie dei perati e ancora quindi di Sinti sul centro del quadro della Madonna ma è il 15 luglio e quindi la notizia della riva dei perati alla milicia raggiunge Palermo viene sospesa dalla processione di Santa Rosalia perché si ha paura di un attacco dei barbareschi che hanno allestito un battaglione di tutte le maestranze nel piano di Santerano vengono mandati dei soldati a cavallo a Palermo per questo poi i piranti fuggiranno la concomitanza dell'attacco di bravareschi alla milicia con il testino popolare attualmente di Santa Rosalia a Palermo e la sospensione della processione per paura di un inventario dei musulmani probabilmente ha amplificato dell'episodio attribuendo la fuga dei pirati e la liberazione della città di Palermo ma anche l'idea del circondario all'intervento miracoloso della Vergine per cui la Madonna della Milicia diventa in qualche modo custode dello spazio a difesa dei pirati di barbareschi poi si attribuiscono anche poteri traumaturgici però io ci tengo a dirlo questo è uno schema interpretativo che io devo dire ma anche condiviso però è uno schema interpretativo però è anche vero che durante la processione della legge come sappiamo la cosiddetta vara sosta in direzione di Palermo in segno di protezione è vero che i numerosi palermitani ancora sono sotto la vara e quindi è anche vero una cosa che dal rendiconto del segreto del Marchessato di Altaviglia il segreto era una sorta di altereto diciamo così del Marchese abbiamo alcune informazioni che sono veramente importanti perché apprendiamo che nel 1674 non siamo lontani dalla data dell'incursione dei pirati già c'è una festa importante per la madonna della miticia e sono dati di straordinario interesse perché arrivano dei sonatori molti predi da Palermo cioè qui capitavano a Zia Nord 250 per 100 persone insomma arrivano sonatori e predi perché perché evidentemente c'è necessità perché c'è gente c'è un bario importante c'è una venta anche importante di cera squagliata che arrivavano i fedeli e quindi ci sono dei segni per così dire inedificabili che è nata una devozione a pochi anni dall'inizio dell'inizio dell'inizio tutto questo è insufficiente per spiegare quello che è accaduto perché si trattò di un punto circoscritto diffusosi per pochi anni perché alla fine del Secento e per tutto il Settecento non ci sono assolutamente io ho visto i libri della famiglia camporneale e allora quando ricercavano sia il professore Brancato e il dottor Stammacca non erano ancora disponibili ma non c'è nulla non c'è nulla che faccia pensare ad un punto verso la Madonna particolare verso la Madonna dell'Amici insomma si ufficiava sì la Madonna che veniva allora chiamata Dello Reto va bene ma si trattava di una festa come tante in Sicilia se ne celebravano per il Santo Patrono insomma nessun elemento che ci indica la presenza di un punto particolare tant'è che gli autori peraltro alcuni scrittori anche importanti che si occupano della della Sicilia mariana insomma parlano di tutte le madonne ma anche piccolissime madonne ma nessun effettivamente addirittura la madonna dell'Amici mi dico anche di più io ho visto il censimento il livello che sarebbe il censimento dei beni del Deano per esempio nel 1748 la Chiesa non ha niente cioè ha soltanto i lasci di un faboltoso proprietario del Viero ma poi non ha niente non possiede donazione di sedere non ci sono patrimoni e quindi queste informazioni confermano devo dire quello che ha scritto il dotto arciprete Salvatore Grillo il quale siccome era prete peraltro nell'Ottocento quindi ha dati in qualche modo attendibili quando scrive dice che sino al 1800 nessun concorso era di fedeli infatti la prima solennità dice Grillo accadde sotto la ciclertura di Zingales Zingales inizio il servizio sacerdotale a Lottavilla nel 1796 quindi la nascita della grande devozione è nel di fine 700 inizio 800 cioè la parrocchia diventa di fatto santuario a fine 700 inizio 8 che cosa c'è devo dire sinceramente che non c'è nulla di nuovo cioè non c'è un evento prodigioso non c'è un mirato non c'è un'apparizione c'è dicono i documenti però questo una crescente e spontanea devozione verso la Madonna che rafforza il culto che fa nascere la grande devozione c'è questo se non c'è altro nel documento poi va bene di recente sappiamo che il santuario è stato eletto a norma del concerto il diritto canonico santuario Mariano di Occesano ma solo nel 2004 ma questo in realtà in qualche modo sarà soltanto una natura locale non c'è il fatto era già un luogo di gusto ma era importante molto prima quindi il santuario nasce fino al 1700 inizio dell'800 e poi vi faccio un ultimo passaggio anche questo molto importante per capire quello che è accaduto e cioè gli speciali per le leggi allora quando il santuario diventa importante ma non potete capire arrivano al santuario offerte in oggetti d'oro case animali terreni insomma il santuario era veramente un santuario ricco e le offerte vengono amministrate da un'apposita deputazione c'è un gruppo di persone che si occupa di gestire insomma questa deputazione è composta da 5 membri era la deputazione era nominata dai marchesi della famiglia Bologna perché come ci ha detto il professore Parna la chiesa era di us patronato feudale per cui questi membri erano scelti tra gli amministratori comunali ma gli amministratori comunali sappiamo che erano per positivi eretti secondo le indicazioni dal barone o dal segreto ma nel video 812 quando sappiamo la storia della Sicilia ha un momento di svolta cioè viene appoglito il feudalesimo e quindi viene meno la nomina della deputazione da parte del marchese e quindi si apre per così dire una lunga fase in cui i piccoli borghesi locali che ora detengono direttamente il governo locale si scontrano con gli arcipreti dell'epoca per gestire per esserci molto cari le offerte anche perché come possiamo per immaginare gli ecclesiastici gli arcipreti dell'epoca insomma legittimamente chiedevano di amministrare loro le offerte insomma e qui succede veramente qualche cosa che mi ha aspettato se mi seguite forse così con un po' più di attenzione forse riusciamo a cogliere siamo bene a questo passaggio allora per contrapporre alle richieste del credo argomenti giuridicamente validi gli amministratori comunali cominciano a sostenere che il quadro che chiamano della Madonna di Loreto non ho mai sentito né riscontrato tra l'incasso eccezionale di un documento che la Madonna vi dicevo è denominata del Loreto sostengono quindi che questa Madonna di Loreto è portata è stata portata all'altavilla dalla chiesa di Santa Maria di Campogrosso allora l'assunto che il dipinto venisse dalla chiesa di Santa Maria di Campogrosso all'epoca non era un lato neutro perché cosa significava che essendo quella chiesa di us il padronato reggio per essere stata costruita secondo una tradizione allora accreditata da Ruggero di Altavilla le offerte date dai fedeli appartenevano al re perché era di us il padronato reggio il quale le poteva far amministrare da una condizione laica di sua nomina quindi niente eccesastici quindi le offerte dovevano essere date in ecclesia sede non troppo ecclesia cioè incredibile ma quindi andavano al padronato reggio e perciò gestite da un'opera non statale si crea in quegli anni in Altavilla un clima sociale veramente aspro per la gestione del santuario anche per il controllo dell'amministrazione comunale e in questo contesto di altra tensione devo dire che nel 1837 accade veramente un episodio molto brutto e cioè viene ucciso il notario Domenico Sant'Angelo che era un liberale e un convinto sostenitore della laicità della Cappella della Vinci e diventa quindi una questione di un certo rilievo tant'è che nel 1839 viene emanato un real privilegio che si occupa proprio della parrocchia il santuario della Madonna della Vinci è pubblicato sotto la data del 18 settembre del 1839 e questo real privilegio che cosa fa? accoglie le tese dei registi e istituisce una la parrocchia della Vinci come piglia opera laicale chiamandola la via opera laicale della Madonna di Isoletta la sottopone alla vigilanza del Consiglio generale di Gios con un'operazione per così dire giuridicamente molto raffinata la cappella viene separata dalla parrocchia per cui le elemosine pervengono in ecclesia non sono di ecclesia non so come dire quindi la cappella diviene peraltro sulla carta una struttura di beneficenza che non fa beneficenza naturalmente perché le donazioni dei fedeli servono attenzione per fare fronte alla festa annuale e al culto e poi il rimanente era destinato a crescere il patrimonio laico sempre della cappella ora vi dico come viene gestita però questa cappella è una delle pagine per così dire più triste della storia del santuario comunque con il titolo di Loreto con il reggio e il decreto del 1839 prevale peraltro sul titolo Madonna del Loreto molti di questi borghesi cominciano a mettere per lezionare il nome Loreto ai loro figli i nomi di Loreto Loreta lauretana prima del 1839 altavista nessuno si chiama così chiaramente capiamo che il debito è fondato su principi astratti ma la cosa più brutta è che la via opera la ricara della Madonna di Loreto viene gestita in maniera privatistica dagli amministratori di Alta Villa con gli amministratori comunali per capire e diviene in poco tempo un vero e proprio centro di potere governato attraverso un sistema familistico e clientelare ma i risultati sono veramente tanti ne dico soltanto alcuni allora un sindaco è costretto a dimettersi perché ha accusato di accusare le nelemosine il sovrintendente di termine è costretto a venire qua a ispezionare la cappella e scrive vi leggo testualmente la deputazione con una sfrontatezza che vengono a reti deputati nel mentre poco annualmente si ritrae nelle discose somme che misteriosamente spariscono ma poi c'è di più perché alcuni membri della confraternita dell'affare che è la sua confraternita che nasce a supporto della madonna che è santuario insomma molti venivano da fare prima allora il documento dice agevolati dai deputati oggi potremmo dire colgotti colgotti dai deputati si fingevano invasi si fingevano invasi da maligni spiriti o muti affrettavano miracoli avvenuti e poi cercandosi il muto che aveva ottenuto la parola più non trovavasi cioè in una sostanza la deputazione aveva interessi come scrive Padre Stabile peraltro a mantenere questi accusi per attirare gente dai paesi vicini per raccogliere molte offese ottenuta la gestione dell'opera via regale peraltro in questo periodo gli amministratori locali qualificarono come elementi simbiotici del sacro alcune sovrastrutture culturali e materiali che hanno per questo che è definito anche la festa quindi sono la seconda metà dell'Ottocento per essere chiari la leggenda famosa sul ritoramento del quadro della madonna dell'anticipo la novena cantata prima della festa il carro trionfare una fiera del mercato e per certi versi anche gli stessi quadretti votivi e gli stessi amministratori laici intervengono anche sul quadro della madonna dell'anticipo perché il quadro in realtà con il passare del tempo aveva perso i contorni originali e per ribadire la fondatezza dell'appellativo di Loreto nell'anno 1853 che cosa fanno si rivolgono a un fonditore di metallo di palermindano si chiamava Mastro Giovanni di Marco allora questi feci una veste d'argento dorata a somiglianza della madonna di Loreto delle marche e poi l'artista insieme ad altri elementi decorativi vengono sovrapposti all'orginale del dito comprendo come sappiamo anche la figura del commistente e quindi succede che la madonna del Loreto o se volete anche di Loreto di Altavilla viene sostituita e confusa con la nota madonna di Loreto delle marche e solo nel 1990 l'intervento sul restauro succede l'intervento del gestauro sul quadro ha svelato a tutti noi il dipinto primitivo e ha restituito al santuario la madonna dell'Oreto o se preferite ha restituito al santuario nostra donna e San Francesco ma qui abbiamo con dei protagonisti di questa incredibile vicenda il professor Mazzarino a cui naturalmente cedo la parola ringraziandovi anche per l'attenzione grazie a tutti 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 grazie a tutti